A San Vincenzo il ristorante Il Timone, specialità pesce e pizza napoletana. Viaglia Vittoria 20, a Marina di Cecina, ristorante, pizzeria, cocktail bar e serate a tema. A Cecina Marina, Stella Beach, lounge bar, ristorante con serate a tema. A Marina di Cecina, alle Gorette, stabilimento Balneare Il Delfino, con ristorante e pizzeria, cucina tipica e specialità di pesce. Ti offriamo l'opportunità di incrementare il lavoro della tua azienda con una campagna promozionale mirata in televisione e sul web. Questo annuncio ti costa meno di quanto tu pensi e comprende un passaggio al giorno su 7 Gold e l'inserimento dei video su Facebook e YouTube con migliaia di contatti garantiti nella zona di residenza della tua azienda. Chiamaci subito! Elba 2015, ristorante Bastias, in località Colle Dorano, specialità insalata di mare da gustare insieme ad un panorama unico. Siete amanti dei viaggi esotici? I viaggi di Darmica è la vostra agenzia. Elba 2015, a Cavoli, hotel Baia Imperiale, con centro benessere e ristorante con specialità marinare. IAB Disco Club, nel centro di Firenze, aperto lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì con cena e sabato. Podere Casarcia, Sinefelle, una produzione vitivinicola biodinamica rispettosa dell'ambiente e della salute dell'uomo. Senza diserbanti, pesticidi e prodotti chimici, per farvi apprezzare un vino buono e naturale, frutto di passione, impegno e tradizione. Sinefelle vuol dire senza amarezza, caratteristica comune a tutti i nostri vini. Vini che nascono da antichi vitigni toscani, raccolti manualmente e fermentati con leviti naturali, che donano sapori antichi ed un gusto unico e vivo ad un vino sano e naturale, reale espressione del territorio.